Organizzato dall'Associazione Letteraria in collaborazione con la Mediateca Montanaria, l'assessorato alle biblioteche del Comune di Fano prenderà il via un laboratorio di narrazione con gli scrittori Simona Baldelli, Maura Maioli e Alessio Torino. Il laboratorio avrà la durata di 20 ore complessive, sarà articolato in 5 incontri tematici, della durata di 2 ore ciascuno e 3 seminari intensivi con ogni scrittore. Anche quest'anno avremo il premio alle giornate di letteraria, la sua seconda edizione è già avviata perché siamo in piena fase di lettura con le scuole, abbiamo i nostri 9 gruppi di lettori aggueritissimi, quest'anno coinvolgendo anche il liceo Raffaello di Urbino, quindi circa 600 studenti che leggono i 63 libri in concorso. E venerdì che cosa inizierà? Dunque venerdì inizia una delle due iniziative che abbiamo pensato di creare per coinvolgere anche la città in questa fase intermedia tra le giornate dell'ottobre scorso e le giornate che ci saranno nell'ottobre del 2015. Le due iniziative sono una serie di incontri con gli autori a maggio, verranno a Fano, Benedetta Tobagi, Marcello Foess e Laura Pariani alla Mediateca Montanari e poi soprattutto questa iniziativa che si apre il 6 marzo, quindi dopo domani, è un laboratorio di narrazione. Chi può partecipare? Chiunque sostenga l'Associazione Letteraria sottoscrivendo il tesseramento annuale di 80 euro. Dove si svolgerà? Alla Mediateca Montanari in aula didattica e per ogni informazione, quindi il calendario, gli appuntamenti, il titolo degli incontri, è sufficiente andare nel nostro sito www.premioletteraria.com oppure scrivere una mail per informazioni a premioletteraria.gmail.com